A fuoco ieri sera intorno alle 22.30 l'auto di un impiegato a Terrasini. Non ci sono dubbi sulla matrice, i vigili del fuoco del distaccamento di Partinico intervenuti sul posto hanno rinvenuto nei pressi dell'automobile una bottiglia contenente della benzina. Il ride si è consumato in via Dante Alighieri ad andare parzialmente danneggiata una Toyota Yaris. Al loro arrivo i pompieri hanno trovato le fiamme già domate dallo stesso titolare del mezzo che con mezzi di fortuna ha spento il rogo. Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione. Parliamo di politica amministrativa 2016 ad Alcamo. Il Movimento 5 Stelle chiude definitivamente le porte in faccia ad una possibile alleanza con ABC. I grillini disposti ad una fusione ma niente accordi con altre sigle di movimenti e partiti. I pentastellati convinti di poter vincere ad Alcamo anche con una sola lista. Dentro il nostro movimento oppure non se ne fa niente. Messaggio forte e chiaro quello che arriva dal Movimento 5 Stelle di Alcamo in vista delle prossime amministrative di primavera in città. I grillini, così come era ampiamente prevedibile, non si alleeranno con nessuno. Posizione che adesso diventa ufficiale in un lungo documento pubblicato dagli stessi attivisti che non arriva oggi casualmente. È infatti una risposta indiretta al Movimento ABC Alcamo Bene Comune dopo la presa di posizione della sua presidente Paola Messina, la quale era tornata a parlare della necessità di un'alleanza tra due forze che condividono gli stessi principi per poter scardinare il sistema politico clientelare del passato. Dal Movimento 5 Stelle è arrivata una risposta secca. Nessuna alleanza, ma tutt'al più è ipotizzabile una fusione. Se l'obiettivo di tutti è il bene comune e l'unico problema sta nella rinuncia di qualcuno all'uso del simbolo, si legge nella nota, noi chiediamo a tutti di unirci sotto quel Movimento 5 Stelle. Non lo facciamo per presunzione, ma perché attraverso i nostri tantissimi rappresentanti garantisce sia il rispetto di quelle regole di impegni che si prendono in campagna elettorale, sia un supporto esterno concreto con consapevolezza di forza e coesione, fa sì che vi sia un'azione amministrativa congiunta e la possibilità di continuare a lavorare sulle sfide future delle altre elezioni e dei livelli superiori, tutti fattori che invece si perderebbero con un simbolo locale. Ma sull'ipotesi fusione non sembra che ci siano possibilità. Alla vigilia di questa missiva la stessa leader di ABC era stata chiara, alleanze e manteniamo ognuno la propria identità, aveva sottolineato. Quindi il Movimento Civico, che alle scorse amministrative strabiliò tutti, riuscendo al suo esordio nella politica locale, a raggiungere addirittura il ballottaggio e perdendo la sindacatura per soli 39 voti di scarto, non dovrebbe rinunciare al proprio simbolo. Proprio da Alcamo Benecomune, mesi fa, partì un appello ai grillini, sollecitandole ad un'alleanza perché correre da soli vuol dire sconfitta quasi annunciata. Non è assolutamente vero che non si può vincere da soli, replicano i pentastellati. Abbiamo dimostrato che siamo capaci di battere anche coalizioni di dieci liste nella città dove abbiamo vinto. Anche ad Alcamo una lista civica da sola alle scorse elezioni, ispirandosi alle regole del nostro movimento, è arrivata ad un pelo dalla vittoria e se ci è arrivata è proprio perché era da sola, disallineata e considerata fuori dal sistema. In poche parole i grillini evidenziano che rimarranno coerenti a questa linea di pensiero, cioè di non allearsi con nessuno, auspicando un'unione sotto lo stesso simbolo.